C'è, c'è, un, invece uno che va dal prete, perché questo qui è appena un po' più violenta, ma è carino, insomma, c'è, c'è uno che va dal prete e fa, eh, dice, ho fatto un peccato, dice, che peccato hai fatto? Ho violentato una suora, eh, dice, brutta cosa, brutta cosa, dice, poi ho anche destemmiato, fa, quello lì è fatto bene perché non sta mai ferme. Grazie.